Eccoci, buonasera, tante notizie importanti nel nostro telegiornale e vi dico subito che partiremo, se non ci saranno aggiornamenti, con il braccio di ferro a tutti i livelli che c'è in Italia per il collocamento dei migranti. Sono stati previsti 20 centri che dovranno trattenere soprattutto quei migranti irregolari in attesa di espulsione verso il loro paese. Su questo si è consumata veramente una serie di prese di posizione contrapposte tra presidenti di regioni ma anche di sindaci per un provvedimento che ovviamente istituendo questi CPR fa sì che ci siano tensioni a livello territoriale. Come vedremo in un contesto che a tutti i livelli, tanto per intenderci dalla Francia alla Polonia, è ormai di prese di posizione che mirano più all'opinione pubblica che al problema in sé in vista delle elezioni europee. Ma come vedremo la scena internazionale domina tutto perché proprio a poche centinaia di chilometri di distanza dal fronte ucraino si è aperto purtroppo un altro conflitto. Ed è quello sul Nagorno Karabakh, il territorio che sta tra Armenia e Azerbaijan, che è al centro di un contenzioso che dura svariati decenni. Oggi, questa mattina, ha preso l'iniziativa armata l'Azerbaijan colpendo e facendo morti, feriti e distruzione nella zona contesa. Per l'appunto, la tensione è molto molto alta e c'è chi dà, ad esempio la Turchia ha ragione alla Azerbaijan e chi spalleggia l'Armenia. In realtà è un altro conflitto, come quello d'Ucraina, tra due paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica, Russia, Ucraina, ma anche Azerbaijan e Armenia. Tutto questo proprio mentre inizia, in quello che sempre viene chiamato il palazzo di vetro delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale Annuale dell'ONU ha già parlato, oltre a Guterres, Lula, anche Joe Biden, che ha detto che continueremo a stare attivamente dalla parte dell'Ucraina sino alla vittoria finale, senza alcuna possibilità che il territorio ucraino sia smembrato. Come dire, la Russia si deve ritirare da tutto, compresa la Crimea. Vedremo però che sta per parlare, potrebbe accadere durante il telegiornale, anche lo stesso Zelensky per la prima volta all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. C'è tutto questo e come vedete tanto ci sono però da vedere altre notizie. Intanto, proprio sulla guerra d'Ucraina, quel terribile massacro, lo ricorderete, almeno 17 morti, quel missile su un mercato in una zona orientale dell'Ucraina, era dovuto non a un attacco russo, ma documenta la ricostruzione del New York Times a un missile ucraino è deviato per tragica fatalità, si dice in questi casi, ma che è comunque tale da far ascrivere proprio all'Ucraina la responsabilità di quel massacro, di gente peraltro di quella stessa nazionalità. Ma è doveroso, perché si parlò di un massacro ad opera dei russi, riportare la ricostruzione del New York Times. Ci sono altre notizie dall'estero, ma anche dall'Italia, perché Giorgetti fa i conti e accusa in realtà la BCE di aver tolto dalla disponibilità delle nostre casse nazionali almeno 15 miliardi per la politica, come si sa, del rialzo dei tassi, mentre l'Ocse abbassa le stime. Ma ci sono altre notizie ancora sulla inchiesta, su quella terribile tragedia di Torino, dovuta, come si sa, a una caccia delle frecce tricolori, ma anche la vicenda, l'ennesima bufera che coinvolge il servizio pubblico radio-televisivo, l'ex presidente della RAI, FOA, conduttore di una trasmissione radiofonica, in cui prende la parola non contrastato, un ex medico Novax, e ne dice di tutti i colori, immaginate quel che è successo dopo. Questo e altro tra pochi secondi, i titoli. Divide gli eletti sul territorio, la linea dura del governo sui migranti, con la decisione di estendere a 18 mesi la permanenza nei centri per il rempatrio. Ogni regione ne dovrà ospitare una, per ora ce ne sono dieci in tutto il territorio. Non darò lo che nessun CPR in Toscana, affonda il governatore Gianni, per il quale la politica dei rimpatri può essere efficace solo con accordi con i paesi di partenza. Parola in segno opposto dal governatore del Friuli, Federica. Nei CPR tutti hanno precedenti penali, vogliamo lasciarli liberi anziché rimpatriarli? E a livello internazionale una nuova fiammata in Nagorno-Karabakh, rimette in gioco delicati equilibri internazionali, divisa da sempre tra Azerbaijan e Armenia. Gli azeri hanno lanciato un'operazione militare nell'Anclava Armenia, situata entro però i confini appunto del paese a zero. Una terra già al centro di una guerra che dura da almeno 40 anni. Non ci fermeremo finché i separatisti non si arrenderanno, afferma il governo di Baku. Scontri di fronte alla sede del governo armeno a Yerevan, appelli per un cessato il fuoco dall'Unione Europea da Mosca, in passato vicina all'Armenia, mentre la Turchia si è schierata risolutamente con l'Azerbaijan. La guerra in Ucraina è il tema pressante dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si è aperta a New York forte e chiaro. Il messaggio del presidente americano Biden, USA e Ucraina vogliono la pace e la Russia a sbarrare la strada. E aggiunge che gli Stati Uniti saranno con Kiev fino alla fine, senza che ci sia nessuna cessione territoriale, neanche la Crimea, quindi. Anologhe parole dal segretario generale dell'ONU Gutiérrez. Tra poco è atteso, tra pochi minuti, l'intervento del presidente ucraino Zelensky, presente per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. A due settimane dalla strage del mercato di Kostya Tvivka in Ucraina, un'inchiesta documentatissima del New York Times rivela che il bombardamento della città e del mercato sarebbe stato causato da un missile ucraino lanciato per errore e non da un attacco russo. L'attacco missilistico del 6 settembre aveva ucciso almeno 17 persone, ne aveva ferite più di 30. Bufera sulla trasmissione radiofonica della RAI, giù la maschera indicativa. È il titolo condotta da Marcello Foa, ex presidente della TV pubblica, a innescare le polemiche e la decisione di ospitare un medico Novax, Massimo Citro, dalla riva, già sospeso dall'ordine dei medici. Citro ha attaccato l'uso del vaccino anticovid, delle strategie messe in campo contro il virus. la RAI subito si dissocia e il mondo politico, ovviamente prende le distanze. Lo vediamo subito per qualche istante. Appena preso la parola al Palazzo di Vetro dell'ONU, al Palazzo, alla Sala dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Volodymyr Zelensky. Solo qualche secondo lo ascoltiamo, poi ovviamente ve ne riferiremo appena possibile. appena avrà concluso. Si sta ricordando il lascito dopo la seconda guerra mondiale del Novecento, di non disporre, di non potenziare l'uso delle armi di distruzione di massa. Torneremo ovviamente, questo è un passaggio della serata fondamentale, su quello che succede appunto all'Assemblea Generale dell'ONU, dove ha parlato anche Biden. mandiamo subito allora, secondo l'ordine del nostro Tg, bufera, in molte realtà italiane, a livello territoriale, dopo la decisione del governo, di creare 20 centri di permanenza, in vista del rimpatrio, per gli immigrati illegali, senza diritto di asilo o di richiesta di rifugio. Vediamo cosa è successo. Regioni divise e comuni alla finestra. La decisione presa ieri dal governo di costruire un centro di permanenza per i rimpatri in ogni regione, prolungando a 18 mesi il tempo massimo per il trattenimento dei migranti, nessun problema per i diritti, lo prevede una cornice europea, dice Piantedosi, allarma i territori e fa emergere approcci e idee diverse rispetto alla gestione del fenomeno. Firenze boccia Roma. Io non darò l'UK, la condivisione a nessun CPR in Toscana e si stanno prendendo in giro gli italiani perché il problema dell'immigrazione e noi dobbiamo affrontare il problema dell'immigrazione è come farli entrare e accoglierli, non come buttarli fuori. Se arrivano questi immigrati con il tormento, le sofferenze e le violenze che hanno subito, la risposta che gli dai da un punto di vista mediatico faccio i CPR, cioè faccio i luoghi che li buttano fuori. Convenzione tra i demme che i centri non risolvano nessun problema visto che la politica dei rimpatri può essere efficace solo con accordi con i paesi di partenza e il nodo della questione in queste ore. Parole di segno opposto dal governatore del Friuli Venezia Giulia e leghista Fedriga. È un'impostazione ideologica quella contro i CPR. Si tratta di centri per gestire chi è entrato illegalmente a precedenti molto gravi. Devo dire che oltretutto i CPR, rispetto a delle contestazioni che ho sentito sui CPR, come se nei CPR ad oggi venisse messa la persona che perde il lavoro, perde il permesso di soggiorno, finisce il CPR, è una menzogna. Nei CPR ci sono tutte persone che hanno precedenti penali ed è l'esperienza almeno quello di gradisca di sonzo. Persone che hanno violenza privata, spaccio, vogliamo lasciarle libre di andare amabilmente dove vogliono senza provvedere al rimpatrio. Anche se in realtà la polarizzazione non è così netta, i territori nel Calderolen ci sono anche i sindaci che finora hanno gestito l'accoglienza, lamentano uno scarso coinvolgimento. Persino il governatore del Veneto Zaia ammette di non avere comunicazioni ufficiali da Roma e ricorda si tratti di una vecchia idea di Roberto Maroni. Non ce l'ha poi qualche dubbio sull'efficacia della politica dei rimpatri. Esitazioni condivise che danno carburante al presidente dell'Emilia Romagna e del PD Bonaccini per l'affondo al governo. Io vedo tanta confusione e mi pare che manchi un piano organico. Roma ci chiami, ma i grandi hub hanno fallito. Ci vuole l'accoglienza diffusa. Ma il governo va avanti. Entro due mesi annuncia il ministro dell'interno Piantedosi, anche se toccherà il collega titolare della difesa a Crosetto a realizzare il CPR. Sarà pronto l'elenco delle strutture scelte. A livello europeo ci sono molti focolai di tensione su questo stesso argomento. I francesi hanno iniziato a costruire quella che sembra una vera e propria installazione antiterrorismo al confine di Mentone, che è, come si sa, il confine con l'Italia. È solo in funzione anti-ingresso di immigrati. E da parte sua il leader della Polonia parla in termini liquidatori e durissimi. Si tratta di un piano disastroso, dei dieci punti che sono stati espossi da Ursula von der Leyen proprio durante la visita dell'altro ieri a Lampedusa insieme a Giorgia Meloni. La verità, cari telespettatori, è che è evidente che di qui alle elezioni europee tutti utilizzeranno in modo strumentale questa vicenda che impaurisce ovviamente le opinioni pubbliche d'Europa. A meno che non ci sia un risoluto modo per riuscire a trovare un'azione comune da parte dell'Unione Europea. In questo momento sembra lontanissima. Prima di andare alle notizie internazionali vi dobbiamo qualche parola riguardo alle condizioni del Presidente Merito della Repubblica, Giorgio Napolitano, che a 98 anni ci sta per lasciare. E' da alcuni giorni che in maniera riservata e poi sempre più esplicita si parla delle condizioni che si stanno aggravando. E da stamattina tutti i mezzi di comunicazione hanno cominciato a parlare esplicitamente del fatto che Napolitano è in gravissime condizioni e in fin di vita. Per ora, fino adesso, appunto, si era omesso di parlarne. Ora che la notizia ha circolato è giusto dire che appunto le condizioni sono tali da non far pensare che sia lontano il momento in cui ci sarà l'addio al Presidente Merito della Repubblica. Andiamo allora alle notizie di carattere internazionale. Ancora una volta, mentre il mondo parla e mentre vediamo ancora per qualche istante Volodymyr Zelensky, il Presidente dell'Ucraina, che sta parlando davanti, vedete, non tutti colmati dalle presenze ai partecipanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, vi riferiremo al termine anche del suo intervento, oltre agli altri, ci sono stati Biden e Lula, si è aperto però un nuovo focolaio di conflitto, non distante dal teatro di guerra dell'Ucraina, perché questa mattina c'è stato l'attacco dell'Azerbaijan verso il Nagorno-Karabakh, che è un enclave, come si dice, in termini tecnici, in termini geografici e politici dell'Armenia, proprio in territorio che sarebbe a zero. Un'azione armata per un conflitto che dura da decine di anni. Il fuoco mai spento della guerra del Nagorno-Karabakh si è riacceso oggi. L'Azerbaijan ha lanciato quella che definisce un'operazione antiterrorismo e lo ha fatto aprendo il fuoco. Solo su postazioni militari, sostiene Baku, su civili ci sono già morti e feriti, è invece la versione che arriva da Stepanakert, il capoluogo dell'anclave a maggioranza armena in territorio a zero, per la quale si combatte da oltre 30 anni. Mentre i colpi d'artiglieria e i droni turchi Bayer-Haktar, quelli che gli ucraini utilizzano dall'inizio della guerra, colpivano il Nagorno-Karabakh, nella capitale armena Ierevan sono cominciate le manifestazioni di protesta. Contro Mosca, storica alleata per chiedere sostegno, contro il premier Nikol Pashinyan, che pochi giorni fa ha aperto la prima faglia tra il suo paese e Mosca. Dopo essersi schierato dalla parte di Kiev, ha ritirato il proprio ambasciatore dalla comunità degli stati indipendenti, quella nata dalle ceneri del patto di Varsavia e poi ha annunciato esercitazioni militari con gli Stati Uniti. In questo risico, che vede i paesi dell'ex Unione Sovietica cercare un nuovo posizionamento dopo l'invasione dell'Ucraina, e l'Azerbaijan è ormai tra i principali fornitori di gas dell'Unione Europea, la questione mai risolta del Nagorno-Karabakh era destinata a riesplodere. Un anno fa i peacekeepers russi avevano lasciato il corridoio di Lachin, probabilmente per andare a combattere in Ucraina. Erano stati schierati dopo un accordo siglato nel 2020 e mediato da Mosca che li aveva inviati a presidiare la strategica via che collega l'Armenia con la regione di Arsak, necessaria per inviare aiuti umanitari da Yerevan, ma che per l'Azerbaijan è servita per far passare le armi per i separatisti del Nagorno-Karabakh. In queste ore altri peacekeepers russi stanno organizzando le evacuazioni dalle zone colpite, ha fatto sapere Baku. Il corridoio di Lachin è stato bloccato dal dicembre scorso dagli azeri che hanno isolato città e villaggi lasciando praticamente gli abitanti armeni senza cibo. Una decisione che da mesi il premier armeno Pashinyan definisce senza mezzi termini il genocidio del suo popolo. Parole che evocano quello degli armeni compiuto nella Turchia dall'inizio del Novecento e che secondo le stime vide sterminare oltre milioni di persone. Poco fa il presidente turco Erdogan proprio alle Nazioni Unite ha ribadito la sua posizione nell'antica disputa. Chiaramente è schierato dalla parte dell'Azerbaijan. E mentre si parla tanto di guerra e soprattutto di quella guerra che da un anno e mezzo ha messo il mondo al cospetto di un conflitto terribile nel cuore dell'Europa e mentre come vedete altri conflitti si riaprono e ci sono timori anche per altre zone e del mondo proprio sulla guerra di Ucraina è doveroso raccontare quello che ha ricostruito una delle più prestigiose testate internazionali il New York Times rispetto a quella strage del mercato lo ricorderete in quella cittadina proprio del Donetsk che avvenuto poche settimane fa fu attribuito a un'azione offensiva della Russia. Non è così. Un tragico errore ucraino e non un attacco russo il New York Times ha pubblicato un'inchiesta dettagliata che dimostrerebbe che il missile piombato sul mercato di Konstantinivka nel Donetsk il 6 settembre non sarebbe stato lanciato dall'esercito di Mosca l'esplosione lo ricordiamo provocò una strage almeno 17 morti e una trentina di feriti il quotidiano new yorkese sostiene che l'ordigno arrivasse da nord-ovest quindi da zone controllate dall'Ucraina e non dal settore russo i video analizzati mostrerebbero che sentendo il rumore del missile in arrivo almeno 4 persone sembrano girare la testa nella direzione da cui proviene l'arma inoltre il cratere e gli altri segni lasciati dall'esplosione sarebbero coerenti con un missile proveniente appunto da nord-ovest tra l'altro scrive il New York Times e pochi minuti prima della strage l'esercito ucraino aveva lanciato due missili terra-aria verso la linea del fronte russo nei pressi proprio di Konstantinivka uno dei due ordigni potrebbe essere finito fuori rotta per un danno al momento del lancio o per il malfunzionamento del sistema di guida in ogni caso fuoco amico che sarebbe avvenuto durante una serie di aspri combattimenti nella zona poche ore dopo lo stesso presidente Zelensky accusò Mosca del massacro e naturalmente oggi il Cremlino si prende la sua rivincita a parlare Maria Zakarova l'Ucraina sta bombardando le proprie città il regime di Kiev lo ha sempre fatto e questa volta lo ha fatto con un missile lanciato con il sistema Buk lo stesso coinvolto nell'incidente del Boeing malese del 2014 insinua la portavoce del Ministero degli Esteri incidente che però un tribunale olandese ha attribuito ai filorussi del Donbass poi la Zakarova conclude la completa smilitarizzazione del regime di Kiev non è solo un requisito ma un'assoluta necessità vitale dal fronte opposto risponde il consigliere presidenziale Podoliak che non smentisce il New York Times ma puntualizza l'articolo ha portato alla crescita di teorie cospirative e quindi richiederà un'ulteriore valutazione legale da parte delle autorità investigative come migliaia di altri casi di attacchi russi al nostro paese nell'ambito di una guerra non provocata la guerra come si sa ha condizionato e molto il corso delle economie europee e l'Ox ancora oggi con i suoi dati conferma che quel che sappiamo l'alta inflazione e anche le prospettive di crescita sempre più frenate si ripercuotano sui paesi compreso il nostro e contemporaneamente il nostro ministro dell'economia è alle prese con la ricognizione che deve portare alla nota d'aggiornamento del documento di economia e finanza insomma la manovra è che si vuole e si deve fare vediamo proprio mentre l'esecutivo è al lavoro per varare la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza con la nuova cornice dei conti pubblici entro la quale inserire la prossima manovra oggi nuove stime economiche quelle dell'Ox parlano di un rallentamento della nostra economia e dunque fanno capire come quella cornice sarà destinata ad essere ancora più ristretta il PIL italiano infatti crescerà nel 2023 dello 0,8% contro l'1,2% stimato a giugno e l'1% messo nero su bianco dall'esecutivo nel DEF stesso ritmo per il 2024 mentre tre mesi fa l'organizzazione con sede a Parigi aveva pronosticato un più 1% numeri che se veritieri significherebbero soldi in meno a disposizione dei provvedimenti economici dell'esecutivo quanti in meno ce lo dirà appunto la Nadef e oggi è stato il ministro Giorgetti intervenendo ad un convegno a ribadire come le risorse saranno molto limitate chiedendo ai suoi colleghi di ridimensionare le proprie richieste anche perché c'è l'ipoteca rappresentata dai ripetuti aumenti dei tassi di interesse decisi dalla Banca Centrale Europea aumenti che hanno eroso l'equivalente di buona parte di una manovra finanziaria se i tassi di interesse fossero rimasti quelli di due anni fa o dell'anno scorso io avevo 14 miliardi 15 miliardi in più da mettere ad esempio sulla riduzione fiscale non ci sono più ristrettezze che secondo Giorgetti neanche le difficoltà economiche della Germania potranno ammorbidire perché sottolinea il ministro per ogni politico tedesco il nemico è l'inflazione da sconfiggere anche a costo di andare in recessione e poi bisogna fare i conti con le regole europee non si sa bene se quelle del vecchio patto di stabilità destinate comunque a rientrare momentaneamente in vigore nel 2024 o quelle di un nuovo patto riformato nell'ambito del quale l'Italia insiste per lo scorporo degli investimenti dal calcolo del deficit numero che sostiene Giorgetti bisogna che sia ragionevole e che dimostri la volontà dell'Italia di tornare ad una politica fiscale prudente a me non è che fa paura tanto la valutazione che fa la Commissione europea a me fanno paura le valutazioni che fanno i mercati che mi comprano il mio debito pubblico e quindi io a tutti i miei colleghi ministri dico che rispetto al loro operato che per carità rispetto io tutte le mattine l'ho detto anche recentemente mi sveglio e ho un problema vendo debito pubblico e devo essere in qualche modo è finito da pochi secondi anche l'intervento di Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU e allora possiamo raccontare questa giornata inaugurale così importante dell'appuntamento annuale guerra povertà crisi climatica riforma delle Nazioni Unite persino il corretto uso dell'intelligenza artificiale sono questi gli argomenti della 78esima Assemblea Generale dell'ONU ma nessun tema è più pressante dell'Ucraina quando i due più importanti oratori di giornata sono il presidente americano Biden e quello ucraino Zelensky sbarcata a New York ieri per andare subito a trovare i soldati di Kiev gravemente feriti e curati negli Stati Uniti Biden e nell'Assemblea arriva in ritardo il suo messaggio all'ambasciatore di Mosca che lo ascolta è forte e chiaro solo la Russia ha la responsabilità di questa guerra e solo la Russia ostacola la pace dice tra gli applausi anche di Zelensky Mosca continua il presidente americano crede che il mondo si stancherà e le permetterà di brutalizzare l'Ucraina senza conseguenze ma vi chiedo questo se abbandoniamo i principi fondamentali della carta delle Nazioni Unite per placare un aggressore quale stato membro può sentirsi sicuro di essere protetto dobbiamo porci oggi a questa palese aggressione per scoraggiare altri potenziali aggressori domani Zelensky parla braccio in inglese nessuna guerra è più pericolosa di quella nucleare dice quella finale ma ci sono tante altre armi che oggi vengono usate anche contro di noi abbiamo visto usare il cibo come un'arma le nostre navi bloccate nei porti e i paesi affamati l'energia le case lasciate al freddo ma non solo le minacce alle centrali nucleari un messaggio che l'assemblea ha già sentito poco prima da Antonio Gutierrez che descrivendo gli eventi europei parla di autoritarismo in marcia il segretario generale mette anche in guardia dalle continue minacce nucleari che mettono tutti a rischio l'invasione russa dice senza mezzi termini è una violazione del diritto internazionale un atto che ha distrutto vite e speranze da qui per tutti gli oratori la sempre più impellente necessità anno dopo anni argomento cardine dell'assemblea generale ma con pochi progressi di una riforma del consiglio di sicurezza che superi i veti incrociati e lo renda più efficace l'evento di New York è anche il momento in cui gli schieramenti sulla guerra si contano e misurano reciprocamente le proprie forze Erdogan promette di raddoppiare gli sforzi per mettere ad un tavolo di trattative quelli che chiama gli amici russi ed ucraini il brasiliano Lula continua a sfuggire a tutte le richieste anche dell'ONU di prendere una posizione chiara sul conflitto condannando l'invasione russa anche oggi davanti all'assemblea non lo ha fatto da lui solo un generico appello al dialogo senza il quale dice è impossibile arrivare ad una pace stabile e duratura ma qualcosa si muove Zelensky dopo il suo intervento vedrà proprio Lula è la prima volta dall'inizio del conflitto abbiamo visto le parole sul conflitto nella sede diplomatica più importante abbiamo visto prima nel servizio anche un'altra cosa come si debba sempre cercare la realtà anche al di là di quello che viene raccontato ufficialmente quel bombardamento del mercato in terra d'Ucraina era opera di un missile e si pensa fino a prova del contrario caduto per un tragico errore su quel mercato ma la verità appunto va ricercata senza paraocchi ma questo non vuol dire che tutto sia uguale al suo contrario in un telegiornale o in una trasmissione informativa e non si può mettere sullo stesso piano chi condanna gli stupri e chi invece è a favore chi è contro la mafia e chi invece è a favore è una materia che sembra ovvia ma non lo è più così tanto da quando è iniziata la serie di racconti controfattuali prima che sulla guerra sul covid e oggi purtroppo ne abbiamo avuto un'altra scia quello che è successo alla radio alla radio della RAI in piena pandemia quando la RAI mandava in onda al loop spot per invitare la gente ad andare nei centri medici e vaccinarsi di quella RAI lui era il presidente adesso che presidente non lo è più da oltre due anni ma è appena diventato titolare di una trasmissione radio di punta giù la maschera ha avuto una pensata quella di invitare il medico più ostinatamente negazionista che ci sia il dottor Massimo Citro della Riva sospeso dall'ordine dei medici autore di un libro Novax e Bibbia dei no covid questo è il contesto il medico sospeso invitato da FOA a parlare dei vaccini ha detto che questi vengono inoculati nell'organismo insieme a una pericolosa tossina che è inutile far finta di niente che c'è una volontà a fare del male che non servono a nulla perché non sono vaccini e che tutto ciò ha provocato un disastro evidente disastro evidente detto dai microfoni della radiotelevisione di Stato il nostro conduttore ex presidente a questo punto ha preso la parola e commentato l'attacco Novax di Massimo Citro e lo ha fatto con una sola coraggiosa parola certo mettendo così in soffitta pandemia sofferenze forse anche i morti e tutto ciò che la RAI la sua RAI visto che Marcello Foa ne era presidente aveva messo in campo contro il covid la stessa RAI che oggi non può fare a meno di prendere le distanze dalla trasmissione dissociandosi dalle parole del medico Novax affermazioni gravi dice Viale Mazzini che già ieri aveva vissuto un momento di imbarazzo con l'invito sempre da parte di Marcello Foa del generale Vannacci quello che parlava così cari omosessuali normali non lo siete fatevene una ragione la risposta all'egemonia culturale della sinistra in chiusura di trasmissione Foa ha precisato di aver dato voce a due visioni del tutto contrapposte visto che in studio era presente anche l'infettivologo Massimo Galli le reazioni mi chiedo che idea di servizio pubblico ci sia dietro l'invito del medico Novax la reazione dal PD del senatore Filippo Sensi superato ogni limite aggiunge la sinistra italiana Nicola Fratoianni oggi la RAI ha dato voce a teorie antiscientifiche complottiste una cosa intollerabile il commento da Italia Viva di Ivan Scalfarotto e il direttore di Radio RAI Francesco Pionati promette la prossima volta se non si dà una regolata se ne va andiamo a vedere le ultime notizie sull'inchiesta per quella terribile disgrazia delle frecce tricolori le comunicazioni tra i piloti delle frecce tricolori e quelle con la torre di controllo dell'aeroporto di Caselle così come le registrazioni in cabina cioè tutti i dati dell'aermacchi che non ha una scatola nera ma un sistema adattato alla tecnologia del velivolo sono iniziate oggi le procedure di estrazione dei dati e servirà del tempo per esaminarli un'operazione eseguita dai tecnici dell'aeronautica militare che dispone dei software in grado di decrittare i contenuti cioè tutti i parametri di volo altitudine velocità prestazioni del motore e le comunicazioni audio del pilota da queste consulenze tecniche usciranno le prime informazioni fondamentali per la procura di Ivrea per capire la cauta del blocco motore della successiva perdita di potenza di Pony 4 il jet pilotato dal maggiore Oscar del Do indagato per disastro aereo omicidio colposo sabato pomeriggio si è salvato lanciandosi dal velivolo in fase di decollo che ha poi travolto in fiamme l'auto della famiglia Origliasso Laura a 5 anni è morta bloccata nel seggiolino verificheremo tutti i notam gli avvisi ai naviganti emessi dall'Enav filtra dagli inquirenti che valuteranno così tutto il piano di sicurezza adottato da aeronautica Enav e Sagat la società che gestisce l'aeroporto sembra che non sia stata segnalata alcuna anomalia dai sistemi elettronici e dai radar non c'era uno specifico allarme per la presenza di uccelli sulla pista dell'aeroporto prima del decollo della pattuglia delle frecce tricolori anche in questo scalo è previsto un servizio di falconeria uno dei sistemi per prevenire il rischio di impatto con volatili sulla pista quel pomeriggio un paio d'ore prima dell'incidente sarebbe stato detto al falconiere che poteva andare via anche l'analisi del motore potrebbe fornire indicazioni importanti per confermare o meno l'impatto con degli uccelli la causa del disastro più accreditata finora le palette della turbina dovrebbero essere spezzate si potrebbero trovare i resti dei volatili rimane in sospeso anche un'altra domanda quel tratto di provinciale che costeggia la fine della pista di decollo poteva essere chiusa la famiglia Origliasso stava transitando proprio nel momento dello schianto del gette il fratello dodicenne della piccola Laura Ostioni sul 30% del corpo la madre Veronica è ancora ricoverata il padre Paolo non si dà pace dopo di noi torna ve lo dico subito di martedì con Giovanni Floris e però prima c'è come sempre otto e mezzo e tra gli ospiti Lili Gruber ci sono Paolo Mieli Corrado Formigli Tommaso Montanari e Brunella a Bollolli ci fermiamo in gran velocità Milano ha chiuso con un più 0,6 per cento in questo momento a New York gli indici sono in leggero calo meno 0,45 il Dow Jones meno 0,24 il Nasdaq è tutto Gruber Floris ci vediamo domani sera buonasera